Ben trovati, un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Nella scorsa lezione abbiamo visto come, rapidamente, funziona l'interfaccia di Adobe Media Encoder, un software molto semplice per l'export dei contenuti. Quest'oggi vedremo come utilizzarlo con Premiere per encodare un video utilizzando, appunto, in tandem il Media Encoder e Premiere Pro. Apriamo dunque Adobe Premiere Pro. Io qui ho una timeline già creata per il programma televisivo Anomalie, l'Italia Occulta, ma è andata in onda, purtroppo, perché per il momento è difficile trovare un distributore. Ad ogni modo, questa è una timeline e io voglio esportare un pezzettino di timeline. Quindi, per esempio, come già visto in qualche lezione fa, quando abbiamo parlato dell'export, vado ad impostarmi un in e un out, per esempio. Scelgo con i tasti CTRL-M la possibilità di aprire qui la finestra di export e sostanzialmente lavoro come sono abituato e come già abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi, voglio esportare, per esempio, un H.264, quindi lo seleziono. Scelgo un preset qualunque o posso lasciare per il momento la situazione che trovo così di default. Posso impostarmi, ovviamente, una directory verso cui spedire il file. Posso scegliere, ovviamente, tutte le impostazioni che voglio. Nella lezione, qualche lezione fa abbiamo visto come pubblicare direttamente sul nostro social network preferito. Per il momento lasciamo perdere questa tab. Quindi, dicevo, posso scegliere il tipo di codec da utilizzare, le impostazioni, bitrate e quant'altro. Per il momento ignoro. Quando ho terminato di impostare il video, la qualità e quello che mi interessa, invece di cliccare su esporta, come abbiamo visto fare in passato, clicchiamo su coda. E guardate cosa accade. Premiere apre il Media Encoder se non è già aperto. Comincia a preparare i file della timeline per mandarli, spedirli ad Adobe Media Encoder. E quando questa operazione è terminata, occhio che può volerci un minimo di tempo, chiaramente, a seconda della complessità della vostra timeline, della complessità del vostro progetto. Dicevo, quando questo procedimento è terminato, il file verrà aggiunto alla coda di rendering e sarà pronto o per essere esportato, oppure per essere duplicato, per, non so, creare altri formati, altre rendition. Il Media Encoder è molto utile, per esempio, se volete esportare la stessa clip in più formati. Per esempio, volete esportare per YouTube, volete esportare per la televisione, volete esportare per i cellulari. Ecco, basta importare, come abbiamo visto fare qui, la clip nella coda di rendering e tra breve vedremo come creare più rendition. Ecco, l'operazione è terminata. Vedete che il file di export viene aggiunto alla coda di export. Posso ancora modificare. Io qui, vi ricordate, avevo impostato un MP4, avevo lasciato le impostazioni così come l'avevo trovate, però cliccando su uno di questi due nomi, o su MP4 o su il nome del preset, verrà riaperta ancora una volta la finestra di export, quella che abbiamo visto prima. Quindi possiamo ancora modificare le impostazioni se abbiamo cambiato idea e vogliamo fare qualcos'altro. Clicchiamo su OK. Posso chiaramente scegliere la destinazione. Se io avessi avuto un ripensamento, ah, ho sbagliato, voglio esportare questo video in un'altra cartella, posso ancora farlo, ovviamente. Per il momento a me va bene così. Quando sono pronto, posso cliccare questo bottoncino in alto a destra, questa freccettina verde, che avvia la coda di rendering. Prima di farlo, però, voglio mostrarvi una cosa molto interessante ed è un punto di forza del Media Encoder, ovvero la possibilità, come vi dicevo, di creare più versioni della stessa clip video. Se io infatti seleziono una rendition, ok, e clicco con il tasto destro del mouse e scelgo la voce duplica, vedete che ho creato non un altro file, in realtà è sempre la stessa timeline di Premiere che è qui, lo stesso progetto di Premiere che qui stiamo per encodare, ma posso scegliere, per esempio, di creare non più un mp4, ma per esempio un file quicktime, e magari esportarlo come ProRes, per esempio. E posso andare avanti, posso farne un terzo, quindi posso andare a duplicare ancora la rendition, questa volta voglio ancora fare, non so, un H.264, ma questa volta voglio dirgli che voglio utilizzare un preset per YouTube a 7.20. Vedete che io qui poi posso scegliere non solo dove andare a salvare il file, ma posso scegliere anche il nome per la singola rendition, quindi YouTube, per esempio, questo invece era l'HD per ProRes, e quindi posso chiamarlo ProRes, oppure chiamarlo direttamente HD, o HQ, iQuality, via. E il primo posso lasciarlo così, così come teaser, così come l'ho trovato. Quando ho terminato queste operazioni, posso cliccare su questo bottoncino verde. Eh, qui ci vorrà un po' di tempo, amici, abbiate pazienza, purtroppo, a seconda della complessità del vostro progetto, possono volerci minuti, o perché no, possono volerci anche ore. A me è capitato di mettere in coda di rendering a volte 20-30 file. Eh, a quel punto cosa fate? Spegnete il monitor, non il computer, mi raccomando, evitate che il computer vada in stand-by, chiaramente, e andate a dormire, e la mattina dopo vi ritroverete con i file convertiti. Aspettiamo qualche istante, e aspettiamo che il media encoder faccia il suo lavoro. Tra breve torniamo e vediamo cosa è successo. Perfetto, come potete vedere, tutto finito. Spunte verde, quando vedete un'iconcina con un punto esclamativo giallo, vuol dire che, hm, qualcos'è andato storto, quindi dovete cliccare sull'iconcina per leggere l'errore, che ora qui non possiamo chiaramente prevedere, quindi ora non posso aiutarvi, se dovesse apparire un segnale di errore, leggete il tipo di errore, cercate su internet eventualmente come risolvere. Però, nella maggior parte dei casi, tutto va bene, iconcine verdi, il nostro lavoro, è stato encodato in tre rendition differenti. Andiamo a vedere le rendition. Eccole qua, le rendition, le tre versioni appena esportate, della stessa clip, come vi dicevo. Quindi ho lasciato lavorare l'encoder, avrei potuto avere 20 formati differenti, o anche 20 progetti differenti di Premiere. Chiaramente il tempo si sarebbe aumentato in maniera esponenziale, ecco perché vi dicevo, andate a dormire quando dovete esportare tanta roba. Però, quando tutto è andato bene, ecco, potete cliccare su una clip, visualizzarla, sul vostro computer, vedete, tutto è andato bene, questo è un formato, questo ne è un altro, e questo è chiaramente, non so se me lo aprirà il media, ecco infatti, i MOV, fa fatica ad aprirli il player di Windows, dovete utilizzare QuickTime, oppure dovete utilizzare, molto più probabilmente, VLC, vediamo se VLC apre i ProRes, sì, ecco, utilizzate ProRes, utilizzate VLC, dicevo, e, 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 Nella prossima lezione, vedremo come utilizzare il media encoder, per esportare, o meglio, per convertire, una clip video, senza aprire Premiere, perché, la potenza del media encoder è questa, può essere utilizzato, anche senza Premiere, come software, a sé stante, eh, semplicemente per convertire un file, quindi dovete convertire un file, da mp4, a, non so, a MOV, sì, potete utilizzare tanti software disponibili, anche più leggeri, probabilmente gratuiti, che si trovano online, ma, se avete Adobe Media Encoder, e, volete fare una conversione al volo, il media encoder, può essere una, una, una buona soluzione. Al prossimo video tutorial, vi ricordo, www.fabbiambrosi.it, ritroverete l'articolo di questa lezione, se volete leggere qualcosina, eh, ci sono anche, eh, le lezioni, su Adobe After Effects, se siete interessati, iscrivetevi a questo canale YouTube, se avete voglia, chiaramente, cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare, come sempre, è Fabio Ambrosi. Al prossimo video tutorial, ciao!